buongiorno ragazzi di terza questa video lezione di grammatica latina ha l'obiettivo di rivedere con voi il costrutto dell'ablativo assoluto che è già stato oggetto di studio da parte vostra nel precedente anno scolastico per farlo quindi ci avvarremo del volume 2 del vostro libro di grammatica latina e libro che aprirete a pagina 33 bene a pagina 33 trovate il titolo ablativo assoluto ma per prima cosa ci chiediamo cosa vuol dire ablativo assoluto assoluto viene dal latino dal verbo latino absolvo absolvis absolvi absolutum absolvere che vuol dire sciogliere slegare quindi si tratta di un ablativo sciolto slegato ma sciolto slegato rispetto a cosa rispetto alla proposizione principale procediamo con ordine e capiamo meglio questo concetto che ho appena pronunciato bene l'ablativo assoluto è un costrutto formato da due parole la prima parola è un sostantivo oppure un pronome con la funzione di soggetto la seconda parola è un participio può essere un participio presente presente e di conseguenza esprime un rapporto di contemporaneità rispetto a quanto affermato nella proposizione principale oppure può essere un participio passato perfetto e quindi esprime un rapporto di anteriorità rispetto al concetto a quanto espresso nella principale e come si traduce in italiano allora l'ablativo assoluto è una proposizione subordinata circostanziale che possiamo rendere in forma implicita come abbiamo già visto in altre situazioni con il gerundio oppure in forma esplicita solitamente con una causale ma anche con quindi poiché dato che oppure con una temporale quando dopo ma anche con una concessiva sebbene o addirittura alle volte con una frase ipotetica quindi se dicevo che viene detto assoluto perché libero da legami grammaticali sintattici con la proposizione principale quindi la è una proposizione l'ablativo assoluto è una proposizione circostanziale quindi una secondaria che però grammaticalmente sintatticamente non ha legami con la proposizione principale però ciò non toglie che da un punto di vista logico di connessione di rapporto causa effetto di rapporto temporale non abbia ciò non vuol dire che non abbia appunto da un punto da dal punto di vista del causa effetto oppure temporale un rapporto con la proposizione principale anzi è fortemente legata in questo senso alla alla reggente alla principale come vedremo dagli esempi i primi esempi che leggiamo li troviamo sempre nel vostro libro a pagina 33 e riguardano l'ablativo assoluto reso con il participio presente ora vi dicevo che il participio presente ha un valore attivo ed esprime un rapporto di contemporaneità leggiamo gli esempi romulo regnante bellum cum sabinis ex assit allora alla lettera romulo regnante dovrebbe tradursi regnante romolo quindi possiamo renderlo con una preposizione temporale mentre regnava romolo perché mentre e non dopo perché un participio presente quindi esprime un rapporto di contemporaneità quindi mentre regnava romolo oppure regnando romolo come vedete romolo è al primo posto alla funzione alla funzione di soggetto di questa frase subordinata ed è in caso ablativo così come è in caso ablativo il participio riferito a romulo regnans regnantis quindi regnante romulo regnante possiamo renderlo dicevamo anche con un espressione possiamo anche renderlo come avete studiato già l'anno scorso con un'espressione diversa un'espressione nominale senza verbi durante il regno di romolo e questa anzi è la traduzione migliore perché difficilmente in italiano diremmo regnando romolo ma piuttosto diremmo durante il regno di romolo oppure mentre mentre romolo regnava ma la traduzione migliore appunto è durante il regno di romolo quindi romulo regnante bellum cum sabinis exarsit divampò scoppiò divampò la guerra con i sabini exarsit è un perfetto del verbo exardesco exardesco exardescis exarsi exarsum exardescere quindi exardesco che vuol dire bruciare ma in senso figurato può essere anche attribuito a riferito a una guerra quindi ancora si può tradurre con divampò andiamo al secondo esempio in cui abbiamo di nuovo un sostantivo inablativo e un participio inablativo riferito a questo sostantivo un participio presente che quindi renderemo sempre con un rapporto di contemporaneità rispetto al quanto espresso nella proposizione principale quindi loquente oratore omnes tacebant tutti tacevano tacebant è un imperfetto di tageo tages tacui tacitum tacere quindi tutti tacevano loquente oratore possiamo renderlo con un gerundio parlando l'oratore ok parlando l'oratore oppure con mentre l'oratore parlava o quando l'oratore parlava oppure se vogliamo ancora renderlo con una causale poiché l'oratore parlava andiamo adesso a vedere la scheda di approfondimento del vostro libro a pagina 35 impariamo a tradurre l'ablativo assoluto con il participio presente ora poco fa abbiamo visto l'esempio di romolo no? romolo regnante e vi ho detto che la traduzione da preferire è durante il regno di romolo ora ragazzi vedete una cosa che succede frequentemente cioè frequentemente accade che è meglio tradurre un ablativo assoluto costruito con il participio presente con una locuzione nominale in italiano e ci sono una serie di esempi qui indicati ad esempio per dire all'alba i latini usavano l'espressione oriente sole oriente non da intendere come est come lo intendiamo noi oriente è un participio presente del verbo orior orior, oreris, ortus sum ha pure un participio futuro oriturus e poi l'infinito oriri quindi orior, oreris, ortus sum, oriri che vuol dire nascere e riferito al sole sorgere allora un'espressione come oriente sole dove abbiamo il sostantivo sole in ablativo e il participio presente in ablativo la dovremmo letteralmente tradurre sorgendo il sole oppure quando sorgeva il sole ma posso benissimo tradurla come normalmente direi in italiano cioè all'alba la stessa cosa dicasi per l'espressione occidente sole nell'espressione occidente sole che trovate sempre nel vostro in questa scheda di approfondimento nel primo rigo c'è il verbo occido occidis, occidi occasum, occidere che vuol dire morire ma anche tramontare riferito al sole quindi occidente sole letteralmente si dovrebbe tradurre mentre tramontava il sole tramontando il sole ma io posso benissimo tradurla anzi meglio con l'espressione al tramonto e così ci sono altre espressioni che in italiano rendiamo con locuzioni nominali e che i latini rendevano con un ablativo assoluto col participio presente e ne trovate elencate un po' in questa scheda ad esempio in eunte vere quindi letteralmente entrando in eunte la primavera quindi all'inizio della primavera oppure exeunte estate quindi uscendo l'estate alla fine dell'estate oppure nullo resistente resistente è participio del verbo resisto quindi letteralmente nessuno resistendo resistendo nessuno opponendosi nessuno quindi si può tradurre senza incontrare nessuna resistenza alcuna resistenza o ancora reluctante natura reluctante è un participio di un verbo deponente reluctor reluctaris reluctatus sum reluctari e vuol dire fare resistenza quindi letteralmente sarebbe facendo resistenza la natura opponendosi la natura e si può più liberamente tradurre con l'opposizione della natura e infine l'ultima l'ultima espressione commentiamola insieme pure omnibus consensientibus viene questo participio consensientibus participio presente viene dal verbo consensio consentis consensi consensum consentire e vuol dire essere d'accordo quindi letteralmente andrebbe traducendo essendo tutti dovremmo tradurre essendo tutti d'accordo ma possiamo anche meglio tradurla con un'espressione del tipo col consenso di tutti con l'accordo di tutti adesso vi chiedo di fare ora pagina 35 la frase numero 1 dunque c'è l'esercizio 8 ablativo assoluto col participio presente come da esempio traduci le seguenti frasi rendendo da prima quindi dove c'è il rigo A gli obiettivi gli ablativi assoluti letteralmente mantonendo cioè in forma implicita o esplicita la struttura latina poi con un'espressione più conforme agli usi della lingua italiana leggiamo l'esempio forse questo esercizio lo avete già fatto l'anno scorso non fa niente rivedetelo l'importante è che lo rivediate esempio Catilina in Etruriam nullo resistente pervenit Catilina pervenne giunse in Etruria nullo resistente letteralmente vedete prima c'è la traduzione letterare nessuno resistendo poi quindi viene tradotto Catilina giunse in Etruria senza incontrare alcuna resistenza bene allora adesso fate così interrompete questo mettete in pausa questo video e traducete l'ablativo assoluto della frase numero uno dove c'è scritto A lo renderete in una forma letterale dove c'è scritto B con un'espressione come dire più fluida della nostra lingua quindi interrompete il video quando lo farete ripartire vi dirò come andava tradotto bene spero che abbiate seguito le mie istruzioni abbiate effettivamente interrotte il video e abbiate tradotto o riguardato o riletto nel caso in cui aveste già svolto questo esercizio la frase numero uno che adesso leggo omnibus senatoribus adstantibus consul orationem abuit il console tenne la sua orazione tenne un discorso omnibus senatoribus adstantibus guardiamo questo costrutto abbiamo il soggetto omnibus senatoribus tutti i senatori adstantibus adstantibus letteralmente si traduce essendo presenti essendo presenti tutti i senatori il console tenne un discorso ma possiamo meglio renderlo con l'espressione alla presenza di tutti i senatori è chiaro? fate adesso la frase numero due quindi interrompete di nuovo il video e poi quando lo farete ripartire ascolterete come andava svolta la frase bene exeunte estate cicero romam redit cicerone tornò a Roma exeunte estate era proprio una delle espressioni riportate nella scheda che poco fa vi ho commentato quindi letteralmente uscendo exeo uscendo l'estate o meglio ancora alla fine dell'estate benissimo adesso andiamo torniamo indietro nel vostro libro a pagina 34 e leggiamo invece gli esempi relativi all'ablativo assoluto costruito con il participio perfetto il participio perfetto vi ricordiamo che se i verbi sono transitivi ci ricordiamo che se i verbi sono transitivi attivi avrà un valore passivo se invece si tratta di verbi deponenti intransitivi ovviamente avrà un valore attivo quindi guardiamo gli esempi victo annibale romani africam impotestate abuerund vi ricordo siamo a pagina 34 del vostro libro sto leggendo il primo esempio in alto victo annibale allora victo è un participio perfetto del verbo vinco vinco è un verbo transitivo attivo quindi victo lo tradurrò da victo darò un valore passivo victo annibale annibale è il soggetto di questa subordinata ed è in caso ablativo ovviamente di conseguenza tradurrò vinto annibale va benissimo anche questa traduzione piuttosto letterale in questo caso va benissimo anzi un'espressione come vinto annibale in fondo è una sorta di ablativo assoluto della nostra lingua vinto annibale oppure posso scioglierla in una forma esplicita con una causale poiché era stato vinto annibale o ancora posso tradurla con una valenza temporale quindi dopo che fu vinto annibale ragazzi perché prima l'espressione loquente oratore l'ho tradotta con mentre l'oratore parlava mentre questa victo annibale temporale come quella come eloquente oratore la traduco dopo che fu vinto annibale perché il participio presente ha un rapporto di contemporaneità esprime un rapporto di contemporaneità il participio passato il participio perfetto scusate e esprime un rapporto di anteriorità quindi non tradurrò con mentre ma tradurrò con dopo che dopo che fu vinto annibale i romani a Buerun tempo d'estate ebbero il loro potere sotto il loro controllo l'Africa leggiamo il secondo esempio mortuo romulo numa rex creatus est quindi numa fu fatto fu creato letteralmente quindi fu eletto re fu nominato re mortuo romulo romulo allora mortuo è il participio di un verbo deponente intransitivo quindi del verbo morior che vuol dire morire essendo un verbo deponente devo ha un valore attivo non un valore passivo ovviamente quindi posso tradurlo con essendo morto romulo oppure morto romulo o dopo che morì romulo o anche dopo la morte di romulo fu eletto re numa benissimo a questo punto prendiamo il pagina 36 del vostro libro e guardiamo la scheda di approfondimento impariamo a tradurre l'ablativo assoluto con il participio perfetto benissimo allora guardiamo l'esempio Roma relicta neapolim contendi mi diressi contendi è un perfetto del verbo contendo contendis contendi contentum contendere contentum contendere che vuol dire dirigersi quindi mi diressi verso Napoli a Napoli Roma relicta relinquo quindi essendo letteralmente lasciata Roma è un'espressione simile all'ablativo assoluto della nostra lingua va bene già come traduzione oppure ancora essendo stata lasciata a Roma o dopo che fu lasciata a Roma oppure posso tradurlo con un verbo attivo non è un errore è un tentativo di rendere più fluida più aderente al nostro parlato questa espressione latina quindi avendo lasciato Roma io mi diressi verso Napoli dopo che lasciai Roma vediamo adesso gli esempi che ci sono sempre in questa scheda e sono esempi con di ablativi assoluti col participio perfetto che in italiano è meglio rendere con locuzioni nominali quindi non come non con una subordinata leggiamolo insieme nulla interposita mora nulla interposita mora dunque letteralmente si traduce la mora è un indugio quindi non essendo stata frapposta non essendo stato frapposto alcun indugio oppure non essendoci alcun indugio posso anche tradurre senza alcun indugio o ancora itinere non intermisso non essendo stata interrotta la marcia vi ricordo quindi itinere non intermisso iter itineris vuol dire sia cammino che marcia ma anche strada via ovviamente il nostro termine itinerario deriva da iter itineris dunque itinere non intermitto non essendo stata interrotta la marcia senza interrompere la marcia meglio tradurlo così intermisso spazio essendo trascorso un periodo di tempo dopo un po' di tempo è meglio tradurlo o ancora guardate quest'ultimo esempio citato equo o incitatis equis letteralmente citato è un participio perfetto del verbo cito citas citavi citatum citare e citare ha due significati interessante il primo significato è far venire quindi chiamare citare in giudizio per esempio si dice che ne so citare iudices quindi chiamare in giudizio i giudici ma poiché significa far venire chiamare significa anche mettere in movimento e quindi incitare e viene detto anche del cavallo quindi citato equo vuol dire incitato il cavallo incitatis equis incitati i cavalli ma è meglio tradurlo con l'espressione al galoppo un'altra espressione che mi viene in mente sempre con questo verbo non è qua presente citato gradu gradus gradus è un termine della quarta è un termine maschile citato gradu vuol dire letteralmente incitando eccitando il passo ma è meglio tradurlo a passo veloce citato gradu bene a questo punto vi chiedo come poco fa di svolgere l'esercizio 9 oppure di rileggerlo nel caso in cui lo abbiate già svolto l'anno scorso leggiamo l'esempio spe victoria missa pompeius ex age e fugit essendo stata persa la speranza di vittoria o poiché era stata persa la speranza di vittoria pompeo e fugit fuggì ex age dalla battaglia dal campo di battaglia essendo stata persa questa è la prima traduzione è una traduzione letterale guardiamo la seconda persa la speranza di vittoria quindi in questo modo creeremmo una sorta di ablativo assoluto italiano persa la speranza di vittoria ma anche una traduzione attiva possiamo dare avendo perso poiché aveva perso la speranza di vittoria pompeo fuggì dalla battaglia bene svolgete ora la frase numero uno la traduzione della frase numero uno bello confecto cesar in iberna exercitum deduxit fermate il video quando lo farete ripartire vi dirò faremo la correzione bene spero che seguendo quanto vi ho chiesto abbiate stoppato il video io comunque procedo con la correzione bello confecto dunque bello il termine bellum è in ablativo confecto viene da conficio conficis confeci confectum conficere e vuol dire portare a termine concludere quindi una traduzione più letterale potrebbe essere essendo stata anzi è essendo stata conclusa la guerra Cesare condusse l'esercito negli accampamenti invernali deduxit exercitum in iberna negli accampamenti invernali oppure possiamo tradurlo be con conclusa la guerra conclusa la guerra Cesare eccetera oppure possiamo dare una traduzione con un valore attivo avendo concluso la guerra oppure dopo che aveva concluso la guerra poiché aveva concluso la guerra benissimo a questo punto ci rimane soltanto l'ultimo paragrafo da ripassare insieme pagina torniamo nel vostro libro indietro a pagina 34 paragrafo 4 l'ablativo assoluto nominale l'ablativo assoluto nominale è una forma particolare di ablativo è un costrutto dove non c'è un verbo ma ci sono due sostantivi in ablativo oppure un sostantivo e un aggettivo o un pronome in ablativo per questo viene di fatto è una locuzione nominale quindi senza un verbo leggiamo subito l'esempio troiani e nea duce troia in latium per venerunt ricordiamoci che questo è importante l'ablativo assoluto nominale esprime sempre un rapporto di contemporaneità rispetto a quanto affermato nella principale dunque troiani e nea duce troia in latium per venerunt i troiani giunsero in lazio da troia e nea duce letteralmente essendo guida enea ma è meglio tradurlo sotto la guida di enea ci sono altre espressioni abbastanza comuni che qua trovate elencate ad esempio natura duce sotto la guida della natura letteralmente essendo guida la natura o ancora consule duce essendo guida il consule quindi sotto la guida il consule vediamo un altro esempio ignaris omnibus letteralmente essendo sottinteso essendo tutti omnibus ignaris essendo tutti ignari bello tradurlo con un'espressione come all'insaputa di tutti guardiamo guardiamo ancora il terzo esempio auctore cesare ora auctor auctoris che in realtà è alla stessa radice del verbo augeo augeo vuol dire aumentare far crescere quindi auctor sarebbe promotore più che autore è meglio tradurlo come promotore auctore cesare letteralmente essendo promotore cesare com'è bello tradurlo con un'espressione del tipo per consiglio per iniziativa di cesare oppure auctore consule per iniziativa del console guardiamo il quarto esempio dis invitis oppure invito senatu quindi invitis invitis vuol dire che non ha la volontà che è contrario è un aggettivo invitis quindi dis invitis letteralmente essendo contrari gli dei oppure essendo contrario il senato letteralmente con un'altra traduzione non letterale può essere contro la volontà degli dei oppure contro la volontà del senato invito senatu guardiamo l'ultimo esempio vivo annibale letteralmente essendo vivo annibale possiamo tradurre con invita annibale oppure mentre era vivo annibale viene molto frequento un'espressione come quella che trovate elencata più sotto cicerone consule letteralmente essendo console cicerone che era un'espressione che veniva utilizzata come un indicatore temporale come dire al tempo di quando era console cicerone per indicare quel periodo storico allora la possiamo tradurre come con un'espressione come cicerone consule durante il consolato di cicerone o sotto il consolato di cicerone era un'espressione appunto usata per indicare l'anno per indicare un periodo storico ben preciso quell'anno e un'altra si può trovare anche al plurale perché sapete i consuli erano due quindi messalla et pisone consulibus letteralmente essendo consoli messalla e pisone cioè durante il consolato di messalla e pisone attenzione guardate ultima cosa guardate l'ultimo esempio marco messalla marco pisone consulibus dunque come vedete non c'è non c'è et tra messalla e pisone perché dice il vostro testo quando i nomi dei consoli vengono citati anche con il prenome la congiunzione et viene spesso omessa benissimo ragazzi troverete i compiti assegnati per la prossima settimana nel registro elettronico vi saluto e poi ci confronteremo su questa video lezione ovviamente potete tirar fuori quando ci vedremo in diretta tutti i vostri eventuali dubbi buona giornata